Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello e faccio questi video perché sono un appassionato di moto. Se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno così sei sempre aggiornato, aggiornato sui nuovi contenuti. Oggi ti parlo di Malanca 125 E2C del 1976. Partiamo da una breve storia perché la Malanca è stata una casa motociclistica italiana attiva a Bologna dal 1956 fino a 1986. Il fondatore Mario Malanca inizia quindi la sua avventura imprenditoriale nel mondo della meccanica, producendo nella sua officina di Bologna parti meccaniche e mozzi per le ruote delle motociclette. In seguito l'officina si specializza anche nell'assemblaggio di motocicli, iniziando la produzione nel 1956 col primo modello. In seguito poi assume un carattere industriale realizzando i modelli diversificati che sono venduti poi su scala nazionale ma anche internazionale, sbarcando in America e in Asia. A proposito del 125, Mario Malanca intuisce presto le potenzialità offerte dal mercato in Italia delle moto da 125 cm³ e presenta al Salone di Parigi nel 1973 la sua prima 125 bicilindrica. Nel 1976 presenta poi la turistica E2C dove E sta per elettroniche perché ha l'accensione elettronica, 2C perché è bicilindrica, due cilindri, ispirata al primo modello del 1974 e poi una sportiva denominata E2C Sport. Vediamola appunto in questa immagine la moto e partiamo dal motore che è un bicilindrico, abbiamo detto due tempi la cilindrata è di 124,9 cm³, raffreddamento ad aria, le teste sono in alluminio mentre il cilindro è in ghisa con un cambio a 5 marci. Due carburatori sono della Dell'Otto e sono denominati SHB19-19B con il diffusore appunto da 19 mm. La potenza massima è di 16 cavalli 8.000 giri al minuto e la velocità massima è di 118 km orari. Passiamo al telaio che è formato da una bella doppia culla molto classica ma appunto per questo molto bella anche esteticamente in tubi d'acciaio, qui vedete nel colore rosso che ne evidenzia le forme, mentre la sospensione anteriore è fidata a una forcella telescopica idraulica. Al posteriore siamo poi in presenza del classico forcellone oscillante con i due ammortizzatori idraulici regolabili. Le ruote sono a raggi da 18 pollici all'anteriore come al posteriore. Il freno anteriore è poi formato da un tamburo da 160 mm mentre al posteriore il tamburo ha un diametro di 140 mm. Il serbatoio ha una capacità di 11 litri mentre il peso secco è di 105 kg. Se ti è piaciuto il video metti i like, se non ti è piaciuto metti i dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella in modo da essere costantemente aggiornato. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi. Ciao, buona giornata, buona serata.